Cosa ne pensi di Sinner che ha detto di no a Sanremo? Secondo te l'ha fatto per una sorta di vendetta nei confronti della Rai? Che comunque si sa non ha dato in chiaro quella che è la finale di Melbourne oppure... No, io credo che Sinner sia un prototipo di essere umano e disportivo assolutamente fuori dal comune. Io come tutti mi sono appassionato al tennis grazie a Sinner e l'ho guardato. Io mi piace studiare le persone. Credo che lui sia nato proprio geneticamente in questo modo. Cioè abbia delle qualità umane, morali, di serietà, di concentrazione che lo porteranno a essere il numero uno. E che a differenza di quell'altro, non dico una parola ma che lo penserei, c'è la differenza di tra Sinner e Berrettini che aveva delle qualità. E' tutta lì. E' la testa, il carattere, il cervello, i valori e tutto quello che hai dentro. Berrettini... Si è un po' perso Berrettini. Berrettini, c'è uno che va con la satta e smette di giocare a tennis, c'è... Meglio, c'è uno mi querela, però, poraccio, c'è... Evito qualsiasi commento. Ma credo che lui sia proprio così. Io ho un neico regista famosissimo che lo ha seguito e che lo conosce molto bene. E praticamente lui aveva una storia serissima con una ragazza, nascosta. A un certo punto questa storia, questa ragazza, un giorno, innamoratissimo, fa una storia. Questo un anno fa, Instagram. E lui non se ne accorge, la posta, taggandolo. Lui la lascia immediatamente. Poi se ne va con un'altra, questa torna, gli dà un anno di purga, ora è ritornata a essere la sua fidanzata. Cioè, ma uno come lui, ti faccio un esempio. Che, vogliamo farli due conti in tasca? Dai. Tra i vari cinque sponsor che ha, oggi dopo la vittoria di Melbourne, li avranno ottenuto. Prendiamo prima della vittoria di Melbourne. Nike, Gucci, Caffè, Lavazza, Intesa San Paolo. Intesa San Paolo, Fastweb, Caffè Lavazza. Cioè, quindi, prima della vittoria di Melbourne, io credo che quelli sponsor siano intorno ai 10-15. Leva Nike. Nike? Nike gli ha fatto un contratto? 150 milioni decennali. Ma prima, prima, prima. 15 milioni di euro l'anno. 15 milioni di euro l'anno. Ma prima, perché aveva creduto in lui. 15 milioni di euro. Ma è la Nike, è la Nike. Lo sapeva, lo vedeva, no? Ora questi triplicheranno, ovviamente, no? Perché stiamo parlando di Fastweb, di Caffè Lavazza, stiamo parlando di Gucci. Cioè, stiamo parlando di brand assurdi. Di uno che ti dà una visibilità pazzesca, no? Ok. Cioè, uno così, giovane. Pure bello. Cioè, poi si fa prendere. Non si compra una macchina, non si compra un orologio. Non è andato a festeggiare. Cioè, qualsiasi uomo di 22 anni non ce la farebbe. Noi abbiamo, come esempio, i calciatori di oggi, che sono una massa di coglioni. Ce l'abbiamo visto. Che giocano tutto il giorno alla PlayStation, chiamano le puttane e scommettono al gioco. Cioè, lui è il prototipo dell'essere perfetto. Poi, uno come me, a essere come lui, si suiciderebbe. Vabbè, ma a ognuno il suo. A ognuno il suo. Ma vince la finale di Melbourne. Addio. Ma porco, bip. Ma vai a ubriacarti insieme a 100 troie e fai a festeggiare. Sei d'accordo con me? No, c'è. Lui no. Lui ha detto, anzi, devo tornare a lavorare. No, sì. Ma perché? Ma lui, cosa gliene frega andare sulla Rai? Ma è quello che... Al festival di Sanremo. Cosa gliene frega? Cioè, non gliene frega perché Gucci non ha, come la Ferragni, bisogno di dirlo. No, vai alla Rai che vai sul Sanremo che ti vesto Gucci. No. Sì, sì. Però è quello che lo farà diventare il numero uno. Sì, ma è come Djokovic. Djokovic ha una... È un robot, un alieno. Io guardo, nella mia vita, sai come sono fatto? Te mi conosci molto bene, no? E te sai bene la mia storia. Io proprio non ho paura di nulla. Cioè, non mi emoziono su nulla. Questo da quando sono nato, in televisione... A me, nella mia vita, ho incontrato chiunque al mondo, attori, chiunque. Pure Brad Pitt, David Bowie, ho fatto serata con Tupac. Qualsiasi cosa. Io ho visto due uomini che mi hanno mandato delle emozioni. Prima è stato Silvio Berlusconi, la prima volta che l'ho visto. Mi ha mandato delle emozioni. Mi sembrava un pupazzo. Non lo so. Io li volevo bene. E' una persona che stimo a livello imprenditoriale. Poi ditemi quello che volete. Ma la prima volta che lo vidi, mi fece un'impressione pazzesca. La stessa roba di Jokovic. Quando l'ho visto, mi ha trasmesso qualche sensazione strana. Tipo? Tipo di una persona molto sicura, di una persona molto potente. Lui è uno che viene dalla guerra. Cioè, lui è uno che crede veramente in quello che fa. E ha una determinazione data da un riscatto del valore del suo paese. E da un impegno che mette in tutto quello che fa. E comunque... E lo emana questo? Lo emana. E' diverso da Federer, da questi qua. E' uno che è tanto di cappello. C'ha 35, 37 anni. C'è uno che ha due coglioni quadrati così. C'è uno che ha due coglioni quadrati così. C'è uno che ha due coglioni quadrati così.